generalmente la gente deve capire con l'intelletto che la vaccinazione è l'unico modo di uscire e chi non lo fa fa male a tutti noi per questo io non capisco le critiche specialmente quelle aggressioni aggressive che si sente di tanto in tanto migliaia di persone che si lamentano che veramente dicono delle cose che non sono accettabili loro non seguendo le regole non andando a vaccinarsi fanno male a tutta la popolazione o assieme o altrimenti non usciamo è più fastidioso il tampone o il vaccino il tampone molto peggio specialmente quello nel naso almeno per me il vaccino non lo senti neanche il vaccino è niente in confronto a quello che ti mettono nel naso se fai il test serio un test veloce è tutta un'altra cosa io devo dire non ho neanche sentito la puntura assolutamente indolore quindi nella vita ho fatto qualche inizio non ho fatto servizio militare quelle sulla schiena i vaccini l'anti influenzale però questa assolutamente quell'ago non ho nemmeno sentito quindi è più e più l'enfasi che si pone che su sul quello che si fa bisogna avere fiducia nella scienza medica i ricercatori hanno fatto miracoli perché mettere in un anno dallo scorso marzo in 12 mesi predisporre un vaccino delle varie marche contro questo virus è stato già un miracolo adesso c'è uno sforzo in mano dell'europa anche qui in alto adise e quindi tutti devono partecipare con fiducia consapevoli che questa è l'unica via per garantire la salute a noi i nostri cari e per riprendere un'economia massacrata che crea tante preoccupazioni che i giovani possano tornare a scuola gli altri al lavoro ciascuno a condurre la vita normale a cui eravamo abituati nella speranza che per l'estate quando sarà in avanzata fase la vaccinazione i contagi diminuiscono sempre di più e si possa veramente tornare alla normalità di un vivere civile